abito qui da 30 39 anni mi sono impegnato proprio con il mio comitato a cercare di migliorare il quartiere il quartiere l'abbiamo fatto migliorare il palazzo no perché ci siamo abbandonati totalmente dall'estituzione scaldamento con questo freddo stanno sempre spetti e noi paghiamo la luce 200 euro di luce per tenere stupette l'accelere elettrica siamo legati alla spiritualità allo stile di chasse fucol quindi pastorale di presenza una pastorale di vicinanza una pastorale i rapporti personali intensi questo sicuramente per noi sembra un po la chiave per entrare dentro la vita e la storia delle persone però riconosco che quando poi si passa a una dimensione di gruppo di aggregazione no questa è una difficoltà particolare nei nostri quartieri ecco forse prepararci noi sacerdoti in maniera più specifica più particolareggiata a quello che può essere una pastorale di questi quartieri ecco sarebbe una cosa che noi stessi dobbiamo imparare e confrontarci con qualcuno l'ascolto delle persone quindi il tempo la gratuità del tempo speso la facilità di accesso non pensare di impostare le cose sui numeri sulla quantità ecco inevitabilmente anche qui c'è bisogno di rapporti qualitativamente significativi Grazie a tutti